Paolo Grimoldi, approvata la mozione della Lega Nord che chiede cosa al Governo? A differenza di tutte le altre mozioni, la nostra è l'unica mozione che esplicitava che oltre all'eco mediatico ed emotiva della terra dei fuochi, cioè della provincia di Napoli e Caserta e dei danni ambientali che tutti abbiamo sentito in questi giorni, ci sono ben altri 56 siti inquinati sul territorio di questo Stato, di cui più di 40 nel Nord. E quindi la nostra mozione chiedeva semplicemente di non dimenticarsi di siti tipo Seveso, tipo Monferrato, tipo Mestre, che aspettano bonifiche da 30, 40 o anche 50 anni e quindi di non far sì che l'ultimo arrivato diventi il primo sulla scia meramente mediatica ed emotiva. Insomma il Nord conta come il Sud? Deve contare in modo uguale e non si capisce per quale motivo, invece sulla scia mediatica le mozioni di tutti gli altri partiti sono indirizzate nel dare soldi esclusivamente alla provincia di Napoli e a quella di Caserta come luoghi inquinati. Noi pensiamo che i luoghi inquinati per motivi industriali, chimici, per vicissitudini storiche e quant'altro, siano tutti quelli tra l'altro riconosciuti dallo Stato attraverso un'apposita legge definiti appunto SIN, che sono questi 57 siti di cui uno dei 57 è l'area di Napoli e Caserta, cosiddetta terra dei fuochi. Ma ce ne sono altri 56 che aspettano da troppo tempo.